Il mese attuale di oscillazione dei mercati e le cripto, soprattutto di Bitcoin, è uno dei mesi a più bassa volatilità della storia di Bitcoin. Ovviamente mancano ancora 9 giorni, quindi Bitcoin potrebbe comunque fare altri numeri, ragazzi, questa è la volatilità in termini percentuali su base mensile di Bitcoin e in questo momento, come vedete, siamo al di sotto praticamente dei minimi storici di volatilità di Bitcoin. Qui nel 2015 avevamo avuto una volatilità similare, poi i dati del 2012 che però non sono oggettivamente validi, in quanto Bitcoin era veramente molto piccolo, quindi non so neanche se i numeri sono corretti quelli di TradingView. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Perché sta succedendo questo? La bassa volatilità? Eppure non sembra, molti di voi potrebbero pensare che questi alti e bassi, questa barra di congestione gigantesca che ha in pratica bloccato il re delle cripto, ma non solo il re delle cripto all'interno della super barra di congestione tra i 31.032 e poi la zona bassa 25, poi oscillante in questo momento nelle ultime quattro settimane, vedete, tra il 29 e 32, quindi bassissima volatilità, tant'è vero che se andiamo a vedere per esempio il grafico a time frame daily si evince ancora di più, guardate, la volatilità del mese, come da questo punto, in pratica è completamente ferma. In realtà questa figurazione ha una figura anche di analisi tecnica abbastanza importante c'è anche una questione di natura ciclica che bisogna andare a vedere perché noi siamo arrivati ad uno snodo ciclico centrale perché poi il tempo passa e quando il tempo passa anche gli asset vengono messi un po' spalle al muro a questo punto sia Bitcoin sia Ethereum devono prendere una decisione, una strada e quella sarà la strada che ci indicherà appunto se apparteniamo ad una struttura ciclica o a un'altra struttura ciclica e in più questa strada ci può anche dare una risposta su cosa aspettarci per esempio nel mese di agosto prossimo. Questo è un video quindi di recap della situazione di lungo periodo e della ciclica di lungo periodo di Bitcoin è un video anche che dà una risposta molto chiara su quelle che è la probabilità di attesa dei movimenti attesi di Bitcoin per il prossimo mese di agosto e anche un po' di settembre. Andiamo quindi a fare un po' questo video abbraccio molto intuitivo e secondo me ragazzi ci sono delle news veramente importanti vi faccio vedere anche quello che è la struttura ciclica di ETH anche qui c'è un grande gigantesco punto interrogativo che è la regina delle crypto deve andare a derimere e sicuramente lo farà nei prossimi giorni. Allora prima di andare avanti ragazzi vi ricordo che ci sono i corsi in promo il Summer Black Friday scade veramente fra pochissimo quindi avete veramente pochissimi giorni i coupon sono finiti però il corso è rimasto in sconto fino alla scadenza della giornata di lunedì prossimo quindi lunedì out poi ragazzi questo è una super offerta per chi vuole formarsi in versione estiva quindi è una super offerta corretta perché di solito in versione estiva nessuno vuole fare queste cose quindi ha un prezzo di sconto maggiore rispetto al solito un po' per invoiare, un po' per gioco un po' per dare un benefit a chi effettivamente stringe i denti sotto il sole i tre pack classici che ormai conoscete corso assolutamente improntato sulla eliminazione della confusione del problema legato all'eccesso informativo del trading solo ciò che funziona, semplicità, operativi e anche molti, molti dubbi che si scioglieranno come neve al sole ragazzi è quasi una promessa perché ovviamente non si può dire però è così, è stato per tutti quindi insomma penso che sarà così anche per voi allora il link è in descrizione perché solo da questo link potete poi acquistare i corsi in promo per il Summer Black Friday lunedì scadenza e chiudono le promo allora andiamo alla questione di Bitcoin io in primis, anzi facciamo così prima parliamo di Ethereum perché Bitcoin ha una situazione ciclica vicina a quella di Ethereum secondo me per una questione classica grafico settimanale su ETH, regina delle cripto la problematica se il ciclo annuale di Ethereum è stato chiuso a giugno con le altre criptovalute oppure ha fatto una lingua di buyer definita lingua di buyer corta un'anomalia tecnica estremamente complessa e anche molto rara ed ha chiuso quindi i giochi invece a novembre con Bitcoin questo è il dubbio che ci portiamo dietro perché? perché Ethereum Bitcoin ha un tasso di correlazione molto alto un tasso di correlazione estremamente importante intorno al 90-92% e quindi a volte queste discrepanze di un minimo non di un mese ma di parecchi mesi ragazzi perché sono luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre cinque mesi è qualcosa in pratica sono un tantino 140 giorni sono un tantino allora in base a questa view ETH cambia anche la sua struttura la sua posizione la sua creazione di una fase discendente a chiudere il ciclo annuale appunto del cripto ed è questo il dubbio che si andrà a delineare proprio in questi prossimi giorni a partire da giugno io ho considerato un ciclo da 112 giorni circa per una questione tecnica legata alla ternarietà cioè un ciclo ternario quello che sta costruendo vediamo se effettivamente lo rispetta altrimenti ragazzi dovremmo assistere ad un nuovo massimo di ETH a breve quindi adesso ragioniamo un po' su queste ipotesi ma è il problema da sciogliere proprio su Ethereum secondo me è proprio questo ora se dovessimo essere precisi puntigliosi applicare la teoria ciclica il nuovo ciclo di ETH è iniziato a giugno è vero che però qui c'è stato anche la questione legata al passaggio al proof of stake della regina delle cripto che è comunque un'anomalia di natura fondamentale spesso quelli che sono del news e dei cambi di paradigma in questo caso tecnologico nel settore delle cripto modificano la struttura dei cicli sottostanti ed è normale questa cosa è sempre avvenuta anche nei mercati tech era così nella rivoluzione di internet per esempio prima che diventassero delle big tech come adesso ed era abbastanza standard questa cosa quindi il fatto che in questa fase sia stata, sia avvenuta una struttura di lingua di bio quindi un'anomalia ci può stare perché magari questa fase rialzista è stata un'anomalia dovuta al passaggio al proof of stake di ETH quindi un pump dovuto a questo tipo di logica di natura fondamentale mentre invece magari invece di fare una cosa del genere avrebbe fatto una cosa così e poi un doppio minimo in questa zona prima di ripartire ecco perché qui è un dubbio che io ho altrimenti da teoria ciclica con i paraocchi se non dovessimo considerare che questo mondo delle cripto è un mondo a sé e che quindi ci sono anche dati di natura fondamentale e tecnologica da andare a considerare se non dovessimo farlo diremmo che a giugno è iniziato il ciclo annuale di ETH che quindi in questa questione diciamo se fosse così siamo nella parte finale del ciclo annuale perciò questo ciclo dovrebbe essere quello debole quindi la probabilità che ETH in questa ipotesi da qui ciclo annuale lo ribadisco ipotesi che chiameremo ipotesi 1 vada a chiudere un ciclo annuale in questo modo è abbastanza alta non è altissima perché potrebbe fare barra di congestione è doppio minimo però il fatto che questo ciclo sia debole è normale e appartiene al concetto che l'annuale di ETH si dovrebbe chiudere a brevissimo in questo caso c'è una data e ve la riporto subito la data è il mese di ottobre cioè intorno alla scadenza del mese di settembre-ottobre perché io ho posizionato una scadenza tecnica ciclica un po' lunghetta 476 giorni perché? perché è un ciclo un po' rialzista ed è anche un po' lunga la parte centrale di solito è così poi si allungano questi cicli quindi se questa zona appunto a bassa volatilità non accelera immediatamente arriva in basso questo ciclo probabilmente è lungo e quindi andare a ragionare a 476 giorni come annuale ci può stare è un po' lunghetto ma ci può stare in ogni caso ragionate sempre in aree che vanno dalla metà di settembre alla metà di ottobre quindi questa zona qui perché c'era la stessa area lo stesso disegnino che noi avevamo disegnato qualche mese fa e che ETH ha rispettato alla perfezione con un minimo esatto quello di giugno perché in questa fase ragazzi può essere anche avvenuta la chiusura di metà del ciclo annuale iniziato eventualmente a novembre cioè ipotesi 2 se questa struttura non è l'inizio di un ciclo annuale ma è un'anomalia tecnica dovuta alla questione del proof of stake di ETH e quindi ETH è passato ad una appare diciamo un minimo un po' più alto rispetto a quello di giugno perché semplicemente intanto c'era stata la questione di luna e poi c'era c'è stato diciamo un pump troppo forte dovuto al proof of stake e quindi poi a novembre siamo andati giù però non vicini ma comunque guardate le close ragazzi che poi le close settimanali sono molto importanti 1141 contro 1173 quindi stiamo parlando di 70 dollari ragazzi 0 7 circa insomma dipende come lo calcoliamo 0 ve lo faccio in base a 1100 in generale 07 06 calcoli proprio con calcolatrice alle mani quindi capite bene il discorso ragazzi questo 6 7 per cento circa è un'anomalia che non è insomma non è poca però non è neanche tantissima per una chiusura di questo ciclo quindi un po' il dubbio ci viene perché se fosse stato l'1 o 2 per cento vi dicevo è 0 cioè praticamente è inesistente il 6 7 è già qualcosa che comunque è un po' ampia però non è ampissima non è un 15% quindi insomma il gioco del mercato cioè il mercato ha fatto veramente un po' il cattivello e ci ha lasciato questo dubbio dubbio che è impossibile andare a capire come si svolgerà fino alla fine di questa chiusura ciclica che a questo punto dovremmo andare a controllare ora ipotesi 1 ciclo annuale in chiusura e TH inizia una fase laterale discendente che andrà a ottobre questa cosa incide anche su bitcoin adesso lo andiamo a vedere ipotesi rialzista numero 2 e il ciclo annuale è stato chiuso qui e quindi questo minimo non è rilevante cosa un po' strana per l'analisi ciclica ma dovuto appunto alla questione che vi dicevo sull'analisi fondamentale del protocollo di TH qui è iniziato un semestrale c'è ancora possibilità di fare un nuovo massimo prima di andare poi a chiudere questa struttura che a quel punto si allungherebbe in totale di un altro tot di giorni perché andrebbe in pratica a posizionarsi verso la fine dell'anno inizio anno prossimo febbraio quindi in pratica sarebbe tutto rimandato alla struttura che vi sto facendo vedere questo è se Ethereum ha chiuso un ciclo annuale in questo punto ipotesi 2 se invece il ciclo annuale è stato chiuso qui questo è un ciclo ribassista o laterale ribassista è difficile che faccia un nuovo massimo può tentare degli up ma magari in close un nuovo massimo superiore a questo livello è veramente molto complicato ora anche da questo ne si evince una serie di possibilità per il mese di agosto ragazzi se ad agosto noi pompiamo e andiamo a fare nuovi massimi allora siamo nella fase ciclica di ETH che vi ho detto e quello secondo me i dubbi un po' ce li toglie ma la probabilità che sia deboluccio il mese di agosto c'è anche sulla questione di Ethereum andiamo a vedere invece Bitcoin perché Bitcoin ha una struttura anche lui che bisogna diciamo guardare e non poco perché vi faccio capire la questione allora qui siamo in una struttura ciclica annuale di Bitcoin che è iniziata certamente invece a novembre questa fase di rialzo è un po' particolare perché qui siamo nella gobba ciclica se voi fate una struttura di insomma della classico cerchio qui siamo proprio nella parte centrale del ciclo solitamente nella parte centrale è ben un minimo minimo che è avvenuto qui ma è anche un massimo che è avvenuto qui anche questo ha giocato sporco il mercato con un combinando diciamo una serie di dati che portano gli anesti ciclici a non avere dei punti di appoggio interessante questa cosa perché poi significa che ovviamente il tutto per operare è sempre girato all'analisi tecnica inevitabilmente e questo è molto bello perché vi fa capire come sono intersecate questa tipologia di analisi e che poi una si occupa più di analisi operative insieme all'analisi quantitativa l'altra invece si occupa un po' di analisi del tempo e quindi del momentum che è una cosa differente allora questa zona ragazzi può essere anche una struttura ciclica così creata di bitcoin a forma ternaria creata in questo modo in pratica potremmo avere un centro di questo ciclo che è di natura massimo e quindi non di natura minimo e questo implicherebbe che questa struttura non è strato un trimestrale ma un semestrale corto e che qui avvenga un'altra struttura del genere e poi una finale in questo modo ora se noi facciamo tutti i calcoli della questione così ce ne andiamo con una ipotesi cioè il fatto che questa struttura iniziata il giugno 2023 se non dura tantissimo appunto come vi dicevo dovrebbe essere più corta del precedente dura un centinaio di giorni questa se non sbaglio da questo minimo è durata qualcosina in più 203 giorni vedete quindi molto più lunga quindi se questa struttura invece dura un centinaio di giorni 112 e fa una struttura più corta va a ricadere con un minimo ad ottobre anche lui quindi ad ottobre in pratica noi potremmo avere una sinergia karmica chiamiamola così con bitcoin che va a fare un minimo e poi si va a chiudere la struttura ciclica annuale in questo modo questa forma la dobbiamo tenere sotto stretta osservazione perché implica una forma del genere una forma ciclica del genere implica che il tempo per fare nuovi massimi per bitcoin è quasi scaduto quindi in sostanza agosto è un mese buono ma se non ce la fa ad agosto la probabilità inizia a scendere che riesca poi a sviluppare nuovi massimi entro la fine dell'anno questo se la view tecnica in questo modo è valida ovviamente solo se noi superiamo in ribasso i 25 mila dollari si annulla praticamente quasi annulla la probabilità che bitcoin possa fare un nuovo massimo qui perché a quel punto il terzo ciclo è difficile che faccia un'anomalia del genere con una probabilità molto bassa 20-30% ragazzi perciò se scendiamo sotto i 25 con bitcoin la questione di avvio del ciclo annuale è insomma non è il 100% però il 70% sicuramente sì quindi diventa problematico fin tanto che reggono i 25 invece la probabilità che bitcoin possa ancora nel mese di agosto farci l'appettino per poi andare a fare questa chiusura appunto verso settembre ottobre esiste ancora quindi questa view secondo me è da valutare esclusivamente in forma rialzista non si sposa però con quanto abbiamo detto con eth perché perché eth teoricamente ha i giorni contati insomma se voleva approvare un nuovo app lo deve fare la prossima settimana insomma avete capito una cosa del genere perché i giorni sono quasi contati cioè ethereum in pratica dovrà andare ad alleggerire questa cosa ovvio che se ethereum va a farci un nuovo massimo allora possiamo anche considerare l'ipotesi 2 che vi dicevo prima e quella la valutiamo poi con calma però direi che la scadenza di ottobre a questo punto vi risulta molto semplice da intuire è fondamentale scadenza di ottobre settembre metà settembre metà ottobre quindi quella campana lì al centro a questo punto risulta una nuova chiave di lettura di quello che può avvenire nei prossimi verso la fine dell'anno attenzione ragazzi perché le fasi attuali bassa volatilità come vi ho fatto vedere è anche una oscillazione un po' incerta di bitcoin sono classiche fasi da centrale da struttura centrale ciclica ed è normale che sia così però da qui in poi il mercato deve poi decidere o fai il nuovo massimo e poi va in chiusura annuale o va direttamente in chiusura annuale quindi la strada ragazzi la probabilità di vedere nuovi numeri alti alti si va a ridurre è ovvio che essendo bitcoin legato alla resistenza a 32 non vuol dire che il nuovo massimo sia a 33 ragazzi perché può tranquillamente breccare questo livello di resistenza e avvicinarsi con grande tranquillità ai 35 in mezza giornata per non parlare poi dell'altro step i 42 che ovviamente presupporrebbero il breakout anche della resistenza a 35 avete visto la 32 mila dollari come è stata difficile il 35 potrebbe essere altrettanto difficile quindi anche volendo la strada è limitata ragazzi perché abbiamo in sostanza un più 10% qui e invece solo qui un app un po' più impegnativo quindi circa il 15 16 per cento in pratica tra queste due livelli di resistenza cioè da qui appunto qui ragazzi il 16 per cento 16 17 allora questa fase in pratica la dobbiamo monitorare in questo modo allora seguendo il trend il trend non è invertito di bitcoin quindi la position in questo modo da giocare resta comunque il long ancora una volta su bitcoin ma è un log estremamente consapevole che andrà gestito con tutte queste informazioni che vi dicevo a livello operativo quindi stop loss trailing bump and dump che il mercato ci può creare attenzione alle truffe perché il mercato potrebbe andare down i primi giorni di agosto prendere gli stop dei long e poi ripartire a cavallo quello sarebbe anche ghiotto da andare a ragionare ed è interessantissimo andare a valutare appunto questa fase in forma da trader perché perché secondo me se pad up sono le ultime occasioni di poter fare gain dell'anno 2023 su bitcoin in maniera considerevole perché una volta che prova a fare un nuovo massimo se rompe la 32 come resistenza ha un spazio di manovra e per salire in maniera vigorosa altrimenti i giochi sono fatti ragazzi poi diventa praticamente quasi rischioso restare long perché se andiamo contro mercato insomma ci possiamo ritrovare dei minimi che ancora non sappiamo poi il trend cambierà laterale ribassista secondo me è la soluzione migliore io credo che faremo quello che il mercato aveva provato a fare nel 2019 e poi non ci è riuscito per via della struttura della pandemia ma in pratica aveva fatto un laterale e un ribasso qui poi una ripresa e qui stava tentando un laterale ribassista se eliminate la candela della pandemia vedete che era un laterale ribassista e secondo me questa struttura il bitcoin potrebbe ancora tentarla allora detto questo vi ricordo le offerte appunto per la formazione per quest'estate cavalcare appunto questi ultimi trend che secondo me verranno proprio nel mese di agosto quando siamo in ferie summer black friday ragazzi non vi lasciate scappare le occasioni poi mi scrivete a ottobre ah ma quando ci sono le offerte ci sono state a luglio va bene ragazzi è giusto premiare che volevo studiare sotto il sole io l'ho sempre vista in questo voto mi ricordo quando ero in università facevo gli esami a luglio volevo spararmi in testa era una cosa terrificante tanti di voi se lo ricordano non ho quanti sacrifici va bene allora per oggi è tutto buon weekend buon mare noi ci rivediamo nel prossimo video ciao